Fun! Numbers! C'è un maledetto masso sulla strada! D'accordo, Raichu! Usa forza per spostare il masso! Ecco fatto! Puoi spostare il masso tu stesso ora! Aspetta, davvero? Posso spostarlo io? Wow! Posso davvero? Certo! Che ti avevo detto? Wow! È una cosa incredibile! È così che si saranno sentiti Goku e Krillie durante l'addestramento con il genio! Dragon Ball, eh? Oh sì, quanti ricordi! Ah, tu... tu sei cambiato! Sento questo... potere! Mi sento come se... potessi battere chiunque! Forse puoi battere il Super 4! È un'idea grandiosa! Farò loro il culo a strisce così come sono! Senza... alcun... Pokémon! Ok, Raichu! Usa forza! Adesso! È ora di battere questi maledetti ragazzacci! Ehm... Sbrigati, li ho sentiti arrivare! Ehm... A proposito di quello... Che sta succedendo qui? Sono qui per battere voi sfigati senza usare alcun Pokémon! Eh? E come faresti? Che stai facendo? L'hai già fatto prima e loro sono qui! Non posso! Eh? Come sarebbe a dire non puoi? Non posso usarla qui! Non ci sono massi! Che razza di motivazione idiota è questa? E perché non me l'hai detto prima? Non me l'hai mai chiesto, cretino! Che cosa sarebbe questo? Un numero comico? E ora che facciamo? Non ne ho idea! E poi come diamo l'avete fatta ad entrare? Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto come al solito fateci sapere qui sotto nei commenti! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubbliciamo! E ora passiamo ai salamappari! Allora io che sono Megaman ci tenevo a salutare Giovanni Bevacqua! Ciao Giovanni! Mi raccomando tifa per me alla video game competition! Ciao io sono Sonic e ci tenevo a salutare Legend! Legend! Ciao Legend! Mi dispiace ma sei troppo lento per me! Ciao io sono Pikachu e ci tenevo a salutare DarkReven99! Ciao DarkReven! Aiutami a scappare da Ash! Ho paura! Io che sono Kirby ci tenevo a salutare Tommaso! Ciao Tommaso! Tifa per me alla video game competition! Ciao Tommaso!